Ogni giorno è una nuova opportunità per realizzare i tuoi sogni. Non importa quanto sia difficile, puoi superare qualsiasi ostacolo che ti si presenta. Lavora sodo oggi per un futuro migliore domani. Affronta ogni sfida con coraggio e determinazione. Non lasciare che i fallimenti del passato ti impediscono di raggiungere il successo nel futuro. Ogni piccolo passo avanti ti avvicina al tuo obiettivo finale. Non c'è successo senza sacrificio e duro lavoro. Non arrenderti mai, anche quando le cose sembrano impossibili. Ogni giorno è una nuova occasione per migliorare te stesso. Non aspettare che le cose accadano, fallo accadere. Lascia che il tuo successo sia il rumore che fa quando cadono le tue paure. La tua vita è ciò che tu ne fai, quindi fai il meglio che puoi ogni giorno. Se non provi, non avrai mai la possibilità di avere successo. Non esiste alcun traguardo che tu non possa raggiungere se ci credi veramente. Non ti arrendere, anche quando le cose sembrano difficili. Mantieni una mentalità positiva e vedrai il mondo in modo diverso. Non preoccuparti dei fallimenti passati, impara da essi e vai avanti con più determinazione. Ogni giorno puoi scegliere di essere una persona migliore di quella che sei stata ieri. Sei tu a scegliere, fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Concentrati sui tuoi successi e non sulle tue debolezze. Non rimandare le cose importanti, inizia oggi stesso. Non accontentarti di meno di ciò che meriti. Le sfide sono opportunità di crescita personale e professionale. Non perdere mai di vista il tuo obiettivo finale. Non c'è niente di impossibile se lo fai con passione e dedizione. Ogni piccolo passo che fai ti avvicina al successo. Il successo richiede costanza e perseveranza. Non aspettare che le cose migliori accadano, rendi le migliori tu stesso. Il fallimento non è il contrario del successo, è parte del successo. Lascia che il tuo successo sia il tuo orgoglio. Non farti sconfiggere dalle tue paure, superale. La tua vita è un libro in bianco, riempilo con le tue esperienze. Fai ciò che pensi sia giusto, anche se significa andare controcorrente. Ricorda sempre che sei abbastanza. Ogni giorno è un nuovo inizio, non sprecarlo. Il successo è l'equilibrio tra la perseveranza e la pazienza. Sii grato per ciò che hai, invece di lamentarti per ciò che ti manca. Il tuo unico limite è la tua immaginazione. Non avere paura di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Le tue azioni parlano più delle tue parole, fai la differenza. Ogni fallimento ti avvicina un po' di più al successo. Mantieni sempre uno sguardo positivo sulla vita, e la vita avrà uno sguardo positivo su di te. Non importa quanto sia difficile, ciò che conta è quanto sei determinato. Non smettere mai di imparare, il sapere è potere. Non giudicare le tue possibilità in base alle opinioni degli altri. Sì il protagonista della tua vita, non uno spettatore. Non temere l'ignoto, è la via per la crescita personale. L'entusiasmo è la chiave del successo. Ricorda che non puoi controllare ciò che accade, ma puoi controllare la tua reazione. Non guardare indietro, guarda avanti e vai avanti. Il successo richiede una mentalità vincente, non una mentalità da vittima. Non arrenderti mai, anche quando sembra che tutto sia contro di te. Mantieni sempre la tua determinazione e la tua forza interiore. Non esiste il momento perfetto, inizia adesso e migliora man mano. Concentrati sui tuoi obiettivi a lungo termine, ma non dimenticare di goderti il viaggio. Non sottovalutare il potere delle piccole cose, possono fare una grande differenza. Ogni sfida è un'opportunità per imparare e crescere. Sii grato per le tue difficoltà, ti hanno fatto diventare la persona che sei oggi. Non preoccuparti di ciò che gli altri pensano di te, sii sempre te stesso. Non permettere mai alle circostanze di controllare la tua vita, sei tu a controllarli. Grazie a tutti.